un radio di partenza, è pronta? quindi mad luvres cosa ci dice di questa avventura notturna? vedremo domani che condizioni sono partiamo bene sono passato un minuto dall'inizio del viaggio e abbiamo già bisogno di un caffè prima sosta di caffè abbiamo già percorso circa 10 km non ce la faremo mai è st'ora del caffè hai saltato l'auto grigio, è dietro il camion tappa sirmione per vedere l'alba ma è troppo presto siamo a peschiera del garda adesso cominceremo ad avviarci in là anche se è presto ed è ancora presto per vedere l'alba che figata mi fa impressione vedere tanta acqua così non sono abituato che spettacolo ma è stata più tardi aprile la prima volta non ci ricordi riduzione accolta fani fani sei non non Siamo tornati indietro a goderci un attimino lo spettacolo abbiamo fatto 5 minuti di macchina abbiamo trovato questo moletto fantastico per vedere l'alba manca poco ce l'abbiamo fatta la vasca dei bus dove voglio buttare 5bates devo trovare qualcuno che mi aiuti ehi la come stai? finalmente ci vediamo finalmente cos'è roba costruita si sono le nostre vabbè belle c'è una canna che vado a fare il mio personal best alla una e mezza siamo subito siamo sulla in acqua demo ieri su quella swim lì 4 lanci 3 attacchi ma io qua devo un attimo orientarmi perché non sono mai stato vabbè la vasca che adesso vado a vedere immediatamente ah quindi è lì che poi trovo i disagiati il disagio è tutto lì vado a fare importunare i bus questo rione è grosso così vicino a un siluro mmmm la prima tinca della mia vita che vedo ma il nostro è l'università salve ma il nostro è l'università salve un po' di casino c'è cosa sta a fare il kayak a vela sto male ah ha rifatto le mystery box io volevo vedere qualche 2 metri e 20 da casting se ci fosse qualcosa dei prezzi humans questa è molto interessante questo è molto interessante primo giro poi fino alle 6 c'è anche il 9, ma quante ne può fare di giri purtroppo lo so sono 9.28 e grazie a te ciao i pacchetti di esca che hanno delle cifre che fa un paolo c'è tanta roba che a un certo punto poi comincia ad andare in pappa e non capisco più niente perché c'è 3.000 marche 3.000 cose e poi mi dicono che le mie esche le vien dottare questo santo stampate non so se roba si può toccare che è in vendita o se roba che non si può toccare che non è in vendita io li ravanavo nella loro roba collezionistica cos'è sta roba è una fiera della pesca non vuoi peluche ma cos'è sta roba io non voglio sta roba tutti i rapalassi però ne ho due io che loro non ce l'hanno e li uso anche tutto un euro al pezzo vediamo se trovo qualcosa che mi sa che io sono da train ci sono le canne un euro al pezzo quale bello anche bianco bianco 4 artificiali 10 euro di gomma lo disarmi lo diamo davanti a ripare i gatti è bello anche di questo colore il diavolo è sa fare mamma mia che cosa stanno facendo da trattare non voglio a casa ci manca così sto a casa con pianca pescare una bella bus boat così pescare show 2022 tal benvenuto a tutti i visitatori ed espositori presenti in Piero 433 ora io c'ho un man che non mi ha mai fatto il soldo mi saluta ora me lo abbraccio tutto dai dai muoviti a venire all'entrata che ti venga da biglietti ciao a lunga finalmente dal vivo ti senti che avevo visto allora la era forma no si mora si c'evo visto solo che era girato facceva tutto s momento io dormo ancora mutHey la sei sono già arrivati è ora devo chiedere una cosa a burro sul nope ma ci viene eccolo Oh, eccolo! Grande! Bene! Ma ci vuoi passare solo? Sì, guarda! Non so se è giusto! Per un Five o due tre? Beh, deve arrivare! Sto resuscitando dal mondo dei morti! Eccolo qua! Ma certo! Ma con voi loro? Con voi tutti! Ha un telefono grande! Aspetta, aspetta, ecco! Complimenti, ragazzi! Grazie! Grazie! Perfetto, gente che mi chiede delle foto! Stavo cercando uno stand dovevo andare a parlare! Chi? Trilo! Non riesco a trovarlo! Trilo! Realmente ci incontriamo qui! Eh sì! Un po' tutti vi incontro qua! Dico, la verità è da poco che sto seguendo il canale! Però c'hai delle idee sulle esche! Ogni tanto funzionano! Bellissimo! Grazie! Trilo! Trilo! Eccolo! Outdoor! Guarda che giro! Io sono davanti! Fai te! Dai! Fai alla tela foto! Grazie! Grazie mille! Martedì, eh! Mi raccomando! 13.30! Ciao! Ciao! Possiamo fare una foto? Certo! Grazie! Figurati! Non fa da modo! Certo! Grazie! Figurati! Ciao! 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 Come va? Sono Budai Futesca! Ci sono iscritti, sai, per il canale! Sì? Sì 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 sì! Grazie! Eh di niente! Grazie! Vado a spendere due soldi! Vado a vedere se ci riesco! Ciao! 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 Grazie! Ciao figura! Ciao! Foto? Eh scherzi! A dopo! Grazie! Figurati! Ciao! Grazie! Grazie! Grazie mille! Volevo farti i complimenti per il canale! Grazie mille! Grande! Grazie! Se ti piace te la regalo io per Natale! Eh cazzo! Oh! Ma chi è questo qua? Ah! Prima! Ah! Prima! Com'è? Tutto bene! Tutto bene! Ci vediamo dopo! Ciao ragazzi! Stai andando via! Com'è? Tutto bene! Scusa! Ciao! 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 Tre quarti in schiena e poi ventino! Scusa! Un po' più figa! Eh? Eh! 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 Amico mio! Come stai? Non mordi Nicola! Guarda! Ragazzi! Seguiteci! Sono io! Sono io! Grazie! Mi hai fatto prendere un po' di pesci con i tuoi video! Menomale! È un buon segno! E ti saluta Giorda! Grande! Vai! Saluta! Io lo dico! Ma ci veniamo a pescare ciò? Eh? Con tutti! Ma lo buttiamo Fife Base in vasca! Per favore! In vasca! Si incazza! Ragazzi! E uno di quelli che guardi tu? Ah! Colpevole! Stiamo cercando tutti! Perché sa tutto di te! C'è anche il codice fiscale! Bene! Bene! Perché non sa il pin della carta! A parte che fa poco danno! Tutti qua! Adesso arriverà anche... Dovrebbe arrivare Fife Base! Fife Base! Dovrebbe! Lo stiamo aspettando tutti! Alessio! Asciutto occhio ormai! Spettacolare! 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 Maura veramente! Fate a mano! Sì! Bello! Molto bello! Prossimo video! Un bel crank! Vado a fare un giro! Ci vediamo! Sempre qua! Alla ricerca del fluorocarbon da luccica! Non trovo! Niente! No a parte gli scherzi! Complimenti per il canale! Ehi! Ciao! Come stai? Stiamo qua dai! Dopo ci facciamo una gacchierata! Stai lì davanti! Sono lì! Guarda! Giro ma poi torno! Torno sempre! Torno sempre in zoo! È di oggi o di ieri questa? È di oggi o di oggi! Maledetto! Che bastardo! Tutto il giorno con l'aspetto! Cazze mille! Le figure! Ciao! L'ho visto! L'ho visto! L'ho visto il maledetto che non si fa vedere tutto il giorno! Ma chi è questo? Scusa! Ma chi è? Ma chi è? Ma chi è? Oh finalmente! Ti facevo più alto eh! Ti facevo più alto eh! Ti facevo più alto eh! Ti faccio più basso! Per il quattro due ero è un po' più alto! Per il quattro due è il quattro due è un po' più alto! Mazzola pure le magliettine! Ho visto! Ho fatto fare apposta! E' una grande mad! Com'è? Mi sta divertendo da questa mattina alle due! Fuori di testa! Per il campo di silo! Vu! 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 Quanto fino a lui! Finalmente adesso! Oh ti ha portato una cosa! Ti ti ha portato? Oh! Eccoci più per lente, ciao ragazzi! Oh grazie, cominciamo la cosa insieme. Fa cominciando anch'io. Aia, aia! E mia moglie odia anche te. Ormai sta diventando un mare. Facciarla così. Grande. Brutta mala. Stai lavorando veramente bene. Pro! Devo far ripassare un po' la fretta. Ho sempre poco tempo e allora... Devo prendere la birra. Sto seccando. Ciao mamma, sei in tele! Aspetta. Ok, uno, due, tre. Questo è l'elemento? Sì, sì, tre di quelle. Una, e due. Vieni, vieni. Eh, niente. Eh, niente. Eh, quelli li uso. Questi sono pericolosi. Questi sono pericolosi. Ciao. Ti ho visto su YouTube? Enrico. Simone. Da quando ho cominciato le retribili su YouTube mi sono messo anch'io a fare le retribili. Ma l'avete detto almeno in quindici oggi? Eh, lo so. Però... Ogni volta che ti vedo uno nuovo... Prendo alla fare qualcosa, quindi... Eh, sì, sì, è così, è così. Sono da finire, eh. Un balsasso. Mi sono... Portati dietro e ho detto che magari qualcuno glieli faccio vedere. No vabbè, lavori già bene, eh. Molto da passanti, due pezzi. Un roba da esco. A vedere anche nel video. Futuro costruttore. Ti ringrazio. Ti ringrazio. È stato un piacere. Ci vedremo. Grazie. Ciao, ciao. Cosa dicono gli influencer qua? Oh, ecco. L'hai comprato? No. Ragassuoli? Sì. Ciao, ragazzi. E dai. È stato un piacere. È stato un piacere, Simo. Ci vedremo prima. Eh, presto, dai. Buon rientro. Grazie. Buon rientro. Grazie. Grazie. Ci vediamo. È stato un piacere. Vado a cercare... Vado a cercare... I rischi mostruosi. Complimenti. Grazie. Ci sentiamo sul gruppo. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao. Allora, 5B si riconosce perché è molto più alto di quello che ho pensato. Il sasso è un cappellino verde. Manolo si riconosce perché è Manolo. Ciao mamma, sei in tele. Andiamo via. Eh, dobbiamo andare. Noi sei mai dato. Bello. Filma tutto che vuoi vedere il gioco. Prima o poi cerchiamo di fare qualcosa di viene. Io ho intenzione a breve di fare il video... Così facciamo partire dal botta risposta. Manolo non l'hai mica visto. Non lo vedo da ora. Vado a prendere Mosca e fa da una fonte. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao ciao. E questo è un guぼ Hierro. Question. Cicla i patti. Come sei, ci vediamo dal vivo, no. Io seguo poco il gruppo. Hai preso qualche video il poco di video? E' bello e buono. Capite? Io non Gabrievo ho visto tutto, ho visto la copro, ho visto tutto. Ti chiamo, ti scrivo. Ti chiamo. Scappiamo. Sto comprando una canna in bambù da mosca Una canna in bambù Una canna in bambù Una mosca in bambù Ciao, ciao Alla prossima Ciao Ciao Ciao, buon rientro Ciao Grazie Vai tanto Vai tranquillo Grazie Ciao Ciao E per quest'anno è andato Eccoci qua, sono sopravvissuto al viaggio del ritorno E ora vi mostro cosa ho acquistato in fiera Nonostante facessi delle carrellate di roba Poi la rimettevo tutto a posto Non so perché, non volevo spendere E non volevo comprare troppe hardbait Per diventare pigro nella costruzione Se avessi un crank già pronto Magari non avrei voglia di costruirmene uno Per andare a pescare E non va bene Ho comprato Qualche piccolo spoon Della Heracles Tre, ne ho presi Tre forme diverse Due grammi e mezzo Due grammi e un grammi e mezzo Testine piombate Da sicuro Perfette per i miei spot Perché sono leggere Sono 20 grammi E 15 grammi Ma hanno gli ami Veramente resistenti Queste qua non si aprono Aperto la amo Di solito Con l'amo grosso Il peso della testina È 60-70 grammi E nel mio caso Dove c'è poca acqua Non va bene Gamberoni Della Heracles Tendenti al rosso Era un po' che li cercavo E basta Mia moglie Poi mi ha regalato Una combo da casting Fantastica Quantum KWD Va 7,40 grammi Quindi posso usarci Un po' tutte le esche Che costruisco Un linellino Quantum Vapor Pagata Un'inezza Pagata 99 euro Completa Uno spettacolo Grazie mille a mia moglie Per questo fantastico regalo Che sicuramente vedrete molto presto in azione Sono rimasto un pochino deluso dalla fiera Perché me lo aspettavo molto più grande Ma mi hanno detto che prima era più grande E ci ho trovato davvero pochi marchi Spero che in futuro Si ampli di nuovo un po' Sono stato però molto sorpreso dall'affetto dei miei fan Infatti siete stati tantissimi E vi ringrazio A venirmi a cercare A chiedermi autografi Foto Non me lo aspettavo E sono davvero contento Di aver conosciuto i miei amici di Youtube Infatti abbiamo un piccolo gruppo su Whatsapp Dove ci sentiamo quotidianamente E non aver mai incontrato di persona Mi pesava Purtroppo le distanze erano elevate E' stata una bella occasione per conoscermi E sono veramente contento di questo Detto questo Vi ricordo che qua sotto Ci sono sempre i stessi link Alla mia pagina Instagram Facebook Wishes di Amazon Lista degli oggetti Influzione video di costruzione Anche per questa volta è tutto Ci vediamo Nel prossimo video Ciao